Tentata rapina ai danni di un furgone portavalori della Cosmopol ne pressi del supermercato DOC di Viale Belgio nel Rione Bozzano a Brindisi. Le guardie giurate si erano recate sul posto per recuperare l'incasso dell'attività commerciale. Due uomini a bordo di una Fiat Panda hanno fermato il veicolo contromano costringendo il furgoncino a bloccare la marcia. Uno dei due rapinatori è sceso dall'auto e ha puntato una pistola alla testa dell'autista minacciandolo. Nonostante la situazione di pericolo l'uomo alla guida ha mantenuto il sangue freddo riuscendo ad allontanarsi rapidamente dalla zona. Nel frattempo un collega ha chiuso le porte del supermercato mettendo in sicurezza l'esercizio commerciale e le persone all'interno. I due rapinatori, fallito il colpo, sono risaliti in auto e si sono dati alla fuga. Gli agenti della squadra mobile di Brindisi, allertati prontamente, si sono messi sulle tracce dei maldimenti. Dopo un inseguimento serrato la polizia è riuscita a bloccare uno dei due banditi, un giovane di 25 anni che è stato arrestato e portato in questura per le formalità di rito. Il complice tuttavia è riuscito a fuggire al momento e ancora ricercato. Alla scena hanno assistito diversi avventori del suo mercato, alcuni passanti che hanno contribuito a fornire dettagli utili. Gli inquirenti mantengono stretto riservo sulle indagini.